musica 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 me ne frega ahahahahahahah al me no scusa ma mi riega da piangere da piangere Moment non ti passa la testa dai menci vero a me scusa ma mi viene da prendere, è bellissimo a mate zio quando aveva c'era l'altro paura musica scusami però sul video vado a spiegare che era che era solo una penitenza c'è il peperoncino sembra che la devono uccidere il peperoncino non manca io è la buona, è la buona, è la buona, è la buona tanto sento freddo, che sarà? con gli occhietti e la cipolletta, ci sta bene un po' di peperoncino? è la buona, è la buona, è un piccantino però quando si è venuto là, mi ha detto che era una buona idea questa io pensavo che fosse diverso, quando la faccio, la mettevo la spezzi la risposta tua è stata brutto stronzo tanto mica capito a te è come nei film, quando uno dice vediamo l'anno prossimo e tu sai che è un mettonaggio che vuole quando tu mi hai detto tanto non capito a te ha detto eccola là ti prendete un bicchiere d'acqua? mi brucia Sì, già, non ti si stiamo... grande qui là c'è un mezzetto di questo che coraggio che donna è vero cazzo gli è piaciuto? è buono e allora no buona la prima ma ti ho detto ma che buono è cipolla e aglio, mica è... è buono però mu lo fa succedere tutti non s'arma di struttura no, giugniamo, socia ciao, fregni un peschetto grazie, sì, che ti ti ha mangiato il peperoncino perché non l'avrai sostenuto gli occhietti non c'erano sì, stavano dentro il peperoncino era un peperoncino farcito era di pieno comunque non era male non senti più